Iniziamo un nuovo argomento Che cos'è una matrice? Allora abbiamo il solito campo K Questo qua Lo indichiamo così K alla m per n L'insieme delle matrici m per n Che cos'è una matrice m per n? M non è altro che una tabella di numeri Questi numeri hanno un doppio indice A1 1, A1 2, A1 n A2 1, A2 2, A2 n E' arrivata l'ultima riga che è A m 1, A m 2, A m n Quindi non è altro che una tabella di numeri O meglio gli elementi di K del nostro campo Come i lettori di Rn Erano una lista verticale di elementi di K Così una matrice E' una tabella Organizzata in m righe ed n Colonna G Ok? A A A I J Denota L'elemento Di riga I E colonna G Quello che sta all'introcio tra I J Sta all'introcio tra La riga I E la colonna G Quindi esattamente come la battaglia navale I è la coordinata della riga Vi dice la riga E J Vi dice Su che colonna Ok? Se la vogliamo Scrivere sinteticamente Si scrive M Uguale A I J I Compreso tra 1 Ed M J Compreso tra 1 Ed M Quindi se io scrivo così Tra parentesi Ci scrivo fuori I compreso tra 1 ed M J compreso tra 1 ed M E' un altro modo per indicare la matrice Però è più facile Che ve la scrivere Per essere Ok? Allora Quindi Chi è K M per N Insieme Delle matrici M Ogni elementi che appartengono? Agli elementi sono le singole entrate Si chiamano anche entrate della matrice I numeri che stanno dentro della matrice Ok? M per N Sono M righe Ripeto Ed M Allora Allora La matrice Chiamiamola A Invece che N Perché Chiaramente Li chiamo A e J E' meglio chiamarla M per D Matrice Queste sono le due lettere più frequentemente usate Sono le lettere latine Grandi Maiuscole Quindi si usa A B M C Ok Allora Prendiamo una matrice A Allora la possiamo scrivere in questo modo A1 1 A1 1 A1 M A2 1 A2 M A3 M A3 M A2 M A2 M A2 M A3 M Fate attenzione Che tra gli indici Che indicano la posizione dell'elemento Non è presente alcuna virgola Ma solo un piccolo spazio Cioè Questo non è 11 Vedete che c'è un piccolo spazio tra 1 e 1 Non è 11 Ma sono Due indici Quindi C'è prima l'indice di riga E poi l'indice di colore Questo magari Sul libro è più evidente Perché graficamente Si riesce a mettere un piccolo spazio Tra l'indice di riga E l'indice di colore Sulla lavagna Un po' meno Però Il contesto sarà chiaro Diciamo Quando scrivo alla lavagna Se ci sono situazioni ambigue Verranno evidenziate O Allora questa è la notazione standard Io scrivo gli elementi Poi metto tutti Ripeto Prima riga Prima colonna Prima riga Seconda colonna Mettiamo a 1 o 2 Prima riga Terza colonna Così via Seconda riga Prima colonna Seconda riga Seconda colonna E in mesima riga Prima colonna In mesima riga Seconda colonna In mesima riga Si può denotare In altro modo Una matrice Certo Voi Una matrice Come la potete organizzare Secondo voi Che cosa c'ha? Righe E colonna Quindi io posso scrivere Elemento per elemento Oppure Righe Per righe Allora se voglio indicare Le righe Semplicemente Un solo indice Soltanto che AI A cosa appartiene? A K 1 Per n E' la riga Iesima E' una riga Ed è n colonna A volte ci metto Delle parentesi Messe Corizontali Larghe Per far capire Che la riga Sta stesa E quindi E' una riga Però Il fatto che siano righe Si capisce dal fatto Che sono ordinate In colonna Quindi sono Righe Oppure La possiamo scrivere Invece di scrivere Le righe Una alla volta Possiamo scrivere Le Colombe Allora Come sono fatte Le colombe Si chiamano così A1 A2 Quale sarà L'ultimo AN Che abbiamo detto La nostra matrice Aveva M righe Ed N Colombe Volendo Metterci le parentesi Per evidenziare Che il suo colombe Si mettono Le parentesi Strette E lunghe Poi capire Che il suo colombe Ok Quindi queste Sono righe E queste Sono colombe Si possono confondere Le righe E le colonne Perché no Perché le righe L'indice L'ho messo In basso Le colonne L'indice L'ho messo In alto Quindi quando scrivo A3 Con l'indice in alto Significa terza Colombe Se scrivo A2 Con l'indice in basso Significa seconda Riga Se scrivo A piccolo 2 e 3 L'elemento Di seconda riga E terza Colombe Chiaro fino a qui Bene Allora vediamo un po' Quando io scrivo K alla M Prendo un vettore Che sta in K alla M Questo come lo posso vedere? Ah Come una matrice Come sarebbe? K N E1 Vuol dire che sono N righe Perché messi per colombe I vettori si mettono per colombe Sono N righe E1 Colombe Se la voglio mettere per riga Devo fare Il trasposto Di un vettore Il trasposto Lo definiamo Per matrice Così Si capisce Ok Quindi questa I vettori Gli spazi vettoriali Tipo K alla M Sono un caso particolare Degli spazi matrici Sono semplicemente Le matrici che hanno Una colonna Soltanto E gli altri invece hanno Più Ok Allora K Alla M Per N È 1 Spazio vettoriale Sul K Sul campo K K pensate sempre Quasi sempre sarà reale Numeri reali Numeri compresi Però ci stanno qui i cambi finiti Che significa Dobbiamo verificare solo due proprietà Dobbiamo verificare Che due matrici Si possano sommare E che una matrice Possa essere moltiplicata Per uno scalato Allora Chi è? Allora A è la matrice A1 1 A1 M A M 1 A M Che sta in K M per N B È la matrice B1 1 B1 M B1 M 1 B M Appartiene a K M 1 Ora secondo voi Chi è A più B? Come si fa? A più a posto Che ci devo mettere? Insomma Come si faceva con le vetture? A1 1 1 Più B1 1 Poi qua ci andrà A1 2 B1 2 Di più ultimi Poi qua ci andrà A1 N Più B1 N Qua ci andrà A2 1 Più B 2 1 Qua ci andrà A2 E Più B Più 2 N Qua ci andrà A M 1 Più B M 1 Qua ci andrà A M Anche Quando noi scriviamo gli elementi Non si mettono virgole Si spaziano Perché se abbiamo spiegato Tutta la virgole Lo metto in mezzo Chiaccio Questo per definizione Per definizione E' fatta così Cioè A più B Imposto I e J È uguale ad A I J Più B Quando io scrivo A i J più B i J Questo indica comunque L'elemento A i J Della matrice A Questo si può scrivere Sia con la letta maiuscola E 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 questa è una definizione Come si fa la sua Questo qua vale per ogni E per ogni Ok Andiamo a vedere Facciamo un esempio Abbiamo A La matrice 2 3 1 Meno 1 4 6 E B La matrice 1 Meno 1 Meno 2 0 1 Meno 1 Quanto fa A più B? Allora Non dite 1 3 Meno 2 2 2 Meno 1 Meno 1 E' chiaro? Dovete fare la summa Un coordinato per coordinare Ok Vediamo un po' E se B è fatta così Chi è A più B? Allora questa è una matrice Che sta per esempio In R 2 Per 3 Questa è una matrice Che sta in R 3 Per 2 Allora Di A più B Non posso sommare Una matrice 2 per 3 Una matrice 3 per 2 Il presupposto Per poterle sommare Che abbiano Lo stesso numero Di righe E lo stesso numero Di colonne E' chiaro? Pian qui O Chi è invece La matrice 3A Chi è la matrice 3A? 6 E lo scalare Significa moltiplicare Come si faceva Con il vettore Tutti gli elementi Per lo scalare Adesso Vediamo un po' Che succede? Allora Quindi E' uno spazio vettoriale? Le matrice M per M Sono uno spazio vettoriale? Si Si possono sommare? Si Si possono moltiplicare Per uno scalare? Si Le altre proprietà Derivano Dalle proprietà Di K Se vi ricordate Per verificare Che uno spazio Si è vettoriale Sostanzialmente Si deve vedere Sempre se lo provo Cioè che Facendo la somma E la moltiplicazione Per uno scalare Io non esco Dallo spazio Bene Che dimensione ha Questo spazio? Per esempio Le matrici 3x5 Che dimensione ha? Lo spazio delle matrici 3x5 Che dimensione ha? No? Allora Pensate a R N Se era R5 Aveva dimensione 5 Questo l'abbiamo Dimostrato Come matrice Era una matrice 5x1 Quindi le matrici 5x1 Hanno dimensione 5 Mo le matrici Mo le matrici 3x5 Che dimensione ha? 15 15 Non ha la dimensione 3 Non ha la dimensione 5 Non ha la dimensione 8 Allora Dimensione 15 Chi è una base? Allora Base Canonica Delle D R 2x3 Mi sapete scrivere La base canonica Di R2 R3 Devo mettere Che dimensione ha R2 R3 6 Devo mettere 6 matrici Chi sarà la prima matrice? La seconda La terza La quarta La quinta E la sesta Questa è la base canonica Delle matrici Delle matrici Sono tutte quelle matrici Che hanno tutti i 0 Tranne 1 Siccome Le posizioni possibili Sono M per N Al variare di queste posizioni Tutte le matrici Che otteniamo Sono quelle Della base canonica Perché? Si chiama base canonica Allora Se adesso Voglio ottenere La matrice A Che devo fare? Se voglio ottenere Questa matrice A Partendo da queste matrici Qua Che devo fare? Prendi questa matrice La moltiplico per 2 Poi Prendo la seconda matrice La moltiplico per E la somma E chiaramente Io ottengo la matrice A Se volete ottenere 7 Al posto IJ Prendete la matrice Che c'ha 1 Al posto IJ La moltipliate per 7 E la sommate Siccome quella È l'unica Che va a dare Un contributo Sulla coordinata Di posto Di riga I E di colonna J Avete Risolto il problema Esattamente Come funzionava La base canonica Di Rn Io volevo ottenere 1 Alla terza Coordinata Prendevo il vettore Che c'aveva Tutti i 0 E 1 Alla terza Coordinata Lo moltiplicavo Volevo ottenere 7 Prendevo quel vettore E lo moltiplicavo Per 7 Ok? Allora Questo dimostra Che è un sistema Di generatori Perché Se io Al posto di A Invece di mettere I numeri 2, 3, 1 Meno 1, 4, 6 Se io metto A1, 1 A1, 2 A1, 3 A2, 1 A2, 2 A2, 3 Allora devo prendere Questa matrice La devo moltiplare per A1, 1 Questa per A1, 2 Questa per A1, 3 Questa per A2, 1 Questa per A2, 2 Questa per A2, 3 E fare la sua E ottengo Una matrice A Deltutto generica Quindi Questo dimostra Che quelle 6 matrici Sono un sistema Di generatori Generatori Sono anche Linealmente indipendenti Perché? Perché Quello che fa Quando le Motipico Per gli scalari E le vado a sommare Quando faccio La combinazione lineare Quello che uscirà Sulla coordinata 1, 2 Dipende solo Da questa matrice qua Quindi quando vado a uguagliare La matrice nulla Se la matrice è nulla È nulla Anche questa coordinata Quindi il coefficiente Che moltiplica questa matrice Deve essere nulla Quindi dal fatto Che una combinazione lineare Sia nulla Serve in maniera Evidente Che i coefficienti Sono tutti Nudi Quindi questa qua È una base Quale base? Si chiama base canonica Perché? Perché è fatta da matrici Che c'erano tutti i z E non è avuto qualche parte E non è altro Questa è facile da Da intuire Funziona come Per K alla M Ok? Questa qua Quindi è la base canonica Essendo una base Ci dimostra Che la dimensione Di K alla M per N È M per N Ok? Se Tutto finisse qua L'utilità Delle matrici Sarebbe Estremamente Limitata Ok? Uno dice Ma perché non li vediamo Come vettori Colonna separati Oppure come vettori No C'è un'utilità Inferiore Che deriva Dal fatto Proprio di Metri Come Matrice Allora Quest'utilità Deriva Dalla seguente Della seguente Definizione Che è quella Di prodotto Matriciare Ovvero Si chiama Prodotto Righe per colonna Allora Come si fa Il prodotto Matriciare Adesso vi do La definizione Teorica E poi facciamo 3-4 esempi Pratici Quasi esempi Ne abbiamo fatti Pochi Perché era facile Il prodotto Matriciare È la prima Volta Probabilmente Che lo vedete In maniera Stratta Probabilmente Avete Imparato a fare Solo il prodotto In matrice Tipo 2x2 Allora Superiore Seppur Allora Noi prendiamo La nostra Matrice A Che ripeto Sta in K Alla M Per N Adesso Vediamo Una matrice B Qual è La Quale deve essere La caratteristica Di B Adesso Lo vedete B 1 1 B 1 2 B 1 P B 2 1 B 2 2 B 2 P B N 1 B N 2 B N 2 Cioè Dove sta Questa matrice Secondo voi? Dove sta Chiaramente Stanno in K Quindi Stanno in K Quante Righi è? N Quante Colom? P N E Allora Qual è La caratteristica Che la Comuna La matrice A Deve avere Tante Tante Righe Quante Sono Le colonne Di A Vedete? N Ed N Deve essere Uguali In Questa Situazione Solo In Questa Situazione Se qua Ho 5 Qua Ho 3 Il Prodotto Matriciale Non Si può Fare Si può Fare Solo Quando Il Numero Di Colonne Della Prima Matrice È uguale Al numero Di Righe Della Seconda Quindi In questo Caso Si può Fare A per B Quindi Per esempio A per B Si può Fare E B per A Non Si può Fare Se P E M Si può Fare Anche B A Ma Se P È diverso Da M A B Lo Potete Fare E B A No Chiaro Quindi Questo Ci fa Capire Che Qua I Prodotti Non È Per Nulla Evidente Che I Prodotti Si Possano Fare In Tutte Due I Sensi E Quando Si Potranno Fare Vedremo Anche Se Si Possono Fare In Tutte Due Vedremo Che In Generale Non Saranno Comuta Di Addirittura Per S Supponiamo Che Che Sia Una Matrice 2 Per 3 Questa Sia Una Matrice 3 Per 2 Quando Faremo A Per Si Può Fare Sia A Per B Che Per A Però Quando Faremo A Per B Verrà Una Matrice 2 Per 2 Quando Faremo Matrici Quadrate Con Numero Di Di Coloni In Quei Si Può Fare A Per B Sia B Per A E Le Matrici Dimangono Quadrate Con La Stessa Numero Di Di Coloni Però Anche In Quel Caso Vedremo Che A Per B Per A In Generale Saranno Diversi Cominciamo a vedere come si fa A per B A per B Definiamo Allora Qua Io voglio I compreso tra 1 ed M E J compreso tra 1 ed I A B Di posto I J Per definizione Si fa la somma Per H Che va da 1 a M Di A Di H Di H Allora Vediamo un po' Ragioniamo prima teoricamente Poi andiamo a fare gli esempi Andiamo a vedere Praticamente Quando Tralasciate questo elemento qua Quando faccio A i H E faccio muovere H Cosa sto scorrendo? A i 1 A i 2 A i 3 A i 4 L'ultimo sarà A i N Quindi sto scorrendo La riga Quale riga? Iesima Della matrice A Quindi questi elementi Che stanno scritti qua Sono gli elementi Della riga Iesima Della matrice A E la scorro tutta Sì perché La riga iesima Della matrice A A ha esattamente N N posizione A Adesso Metto la mano qua sopra E guardiamo gli altri elementi Quando faccio BHG Per esempio G è uguale a 2 B1 B2 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 B3 B4 B2 Qual è l'ultimo? B N2 Se gira uguale a 2 Cosa sto scorrendo? La seconda Colonna Della matrice B Quindi in generale Qui sto scorrendo Contemporaneamente L'iesima riga di A E la ceglissima Colonna Di B Le scorro In parallelo Sì vanno bene Perché quelle sono lunghe N Sia questa che questa Questa perché questa c'è N riga Quella è lunghe N Perché quella c'è N colonna Quindi cosa faccio? Mano a mano Che scorro La riga iesima E la colonna ceglissima Prendo le componenti Archesime di questa riga Di questa colonna Le moltiplico Diciamo Chiamiamole componenti a moto Che è anche se un po' Un abuso di terminologia E sto facendo Il prodotto scalare Quello è il prodotto scalare canonico Della riga iesima Con la colonna Ceglissima Per precisione Sto facendo il prodotto scalare Tra il trasposto E la riga iesima In genere Io cosa facevo Quando facevo il prodotto scalare Tra due vetture Facevo la somma Dei prodotti La combolante a moto Li mettevo a fianco Facevo Questi per questi Questi per questi Questi per questi Questi per questi E facevo la somma Qua sto facendo la stessa cosa Però La riga iesima Andrebbe Trasposta Quindi Fare il prodotto scalare Quando io Diciamo In Rn In Rn Quando io faccio V scalare V2 Oppure Trasposto di V Per VW Liga per colonna È uguale Perché se vi ricordate I vettori Si mettono Liga per colonna Quindi questo qua Appartiene A R 1 per n Questo appartiene Questo è messo Per colonna A R N per 1 E il prodotto scalare Non fa altro Che scorrere L'unica riga Scorrere l'unica colonna E fare questi Prodotti Quindi Cosa abbiamo imparato Che il prodotto scalare canonico Si poteva vedere Come Il trasposto Del vettore V Visto come colonna E quindi lo metto come riga Come prodotto La riga V Per la colonna VW Secondo questa definizione Qua Questo però Se devo farlo solo una volta Qua Quando lo faccio una volta Cosa viene fuori? Viene fuori Non tutta la matrice A per B Ma viene fuori solo L'elemento Di A per B Che sta Sulla riga iesima E sulla colonna G Quindi Quando ripeto Questa situazione Questa definizione Per tutti E i Comprese Tra 1 e n E per tutte le j Comprese Tra 1 e b La matrice prodotto Dove sarà Secondo voi? 2K M per P M per P Vedete? M per n Quando lo vado a moltiplicare Per n per P N a n si cancella Grazie a questa operazione E mi rimane una matrice M Righe Ed n Adesso vediamo In pratica Come si fa Allora Cominciamo Facciamo Una decina di esempi E poi Facciamo la Rapportazione Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Andiamo a fare L'esempio 1 Si può fare Questo prodotto A per B Si può fare La prima è 2 per 3 La seconda è 3 per 3 Il numero Di colonne Della prima E' uguale E' uguale Alla seconda Quando fa il prodotto Allora io dico Che fanno 5 5 5 Poi vanno 8 5 Poi vanno 10 Poi vanno 5 7 5 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 17 16 22 28 24 Poi come si fa il prodotto? Al primo posto che ci fa? Prima riga, prima colonna, quindi devo fare 2 per 1 che fa 2 più 0, più 3, 2 più 3 fa 5 Poi al posto 1, 2 che devo fare? Prima riga, seconda colonna, quindi 2 per 2, 4, più 1, 5, più 0, fa 5 Poi al posto 1, 3 che ci devo fare? Prima riga, dall'altra parte, terza colonna Quindi 2, meno 1 fa 1, più 9, che per prima 9, 1 più 9 fa 2 Poi la seconda riga, 4, più 0, più 1, fa 5 La seconda è il primo elemento Il secondo elemento della seconda riga è seconda riga, seconda colonna Cioè 8, meno 1, più 0, che fa 7 Poi abbiamo 4, più 1, più 3, che fa 8 Ok? Ora Quindi questa qua Vogliamo Allora, guardate Vedete Che questa matrice ha tante righe, quante sono le righe di? Di A o di B? Di A E ha tante colonne, quante sono le colonne? Di B A è un caso, B Avrà P colonne Quindi avrà tante colonne, quante colonne di B? Ce l'ha anche tante quanti di A, ma è un caso Invece, sulle righe si vede bene perché sono solo due righe che sono pari al numero di righe di A Allora, guardate Facciamo questa combinazione lineare qua Chi sono le colonne di A? Le colonne di A sono 2, 4 Poi sono 1, meno 1 E poi sono 3, 1 Queste sono le colonne di B Devo prendere le righe di B Oppure le colonne di B Prendiamo le colonne di B Prendiamo le colonne di B Prendiamo le colonne di A Queste sono le colonne di B Eh, no, invece l'ho fatto Mi sono imbrogliato con le colonne di A Le colonne di A 2, 4 1, meno 1 E 3 3 1 Ok Queste sono le colonne di A O Queste sono 3 Quindi Sono M In generale non sono uguali Alle Al numero di colonne di A per B Però Ci hanno la lunghezza giusta Cioè sono colonne lunghe 2 Allora Andiamo a fare la seguente combinazione lineare Prendo Prendo 1 Più 0 Più 1 Che significa Che la seconda parola non la devo considerare Qua devo fare la somma della prima e della terza Quanto viene? 5 Vediamo se avete capito il gioco Mettiamo le stesse colonne qua Che coefficienti di combinazione ci vogliamo metti stavolta? 2 1 2 0 Quanto viene? 5 6 5 6 Se invece i coefficienti di combinazione ci metto Qui ci devo mettere? 1 Meno 1 3 Allora Devo fare Il liquido di questa è 9,3 Più questa fa 11,7 Meno questa Fa 10,8 Che cosa abbiamo scoperto? Allora Le colonne di A sono queste Sono questa Questa Queste cosa sono? Chi sono queste? La colonne di AB La colonne di AB Quindi cosa abbiamo scoperto? Che capite voi? Che le colonne di AB sono combinazioni lineari delle colonne di A E quali sono i coefficienti di combinazione? La prima colonna di AB mi viene Facendo la combinazione lineare delle colonne di A Con I coefficienti della prima colonna di B La seconda colonna di AB mi viene facendo la combinazione lineare delle colonne di A Con I coefficienti della seconda colonna di B la terza colonna di AB mi viene facendo la combinazione lineare delle colonne di A con i coefficienti della terza colonna di AB basta ricordarsi che viene tutto a colonne cioè le colonne di AB sono la combinazione lineare delle colonne di A con i coefficienti presi da una delle colonne di B dalla colonna corrispondente di B per esempio la terza colonna devo prendere i coefficienti dalla terza colonna di B la seconda colonna di coefficienti la seconda colonna di B e così tutto questo se ci mettete le lettere e gli indici vale per qualunque prodotto matriciato ora però se vale per le colonne varrà pure per le righe se soltanto quali sono le righe da considerare stavolta le righe da considerare sono le righe stavolta di B 1 2 1 0 1 meno 1 1 0 3 queste sono le righe di B adesso cominciamo a fare per esempio 2 1 2 1 più 1 0 1 meno 1 più 3 che moltiplica 1 0 3 che devo fare quando fa la somma quanto viene lo scrivo qua sotto 2 meno 1 più 3 vediamo un po' se ho scritto bene 1 2 1 quindi 2 meno 1 più 9 fa 10 a 2 4 più 1 più 0 fa 5 2 più 0 più 3 fa 5 quindi mi viene 5 5 10 e che mi viene la prima riga di A B rifacciamo la stessa cosa però cambiamo i coefficienti questi chiamano i coefficienti della prima riga di A andiamo a prendere i coefficienti della seconda riga di A quindi 4 volte 1 2 1 più meno una volta 0 1 meno 1 più una volta 1 0 quindi devo fare 4 volte questa riga quanto fa? 4 8 4 poi ci devo aggiungere questa quindi viene 5 8 11 poi ci devo togliere questo e quindi viene 5 7 4 1 4 5 8 7 erano 11 quindi questa era 11 quindi viene 5 7 8 4 8 4 più questa fa 5 8 7 meno questa 8 meno 1 fa 7 quindi 5 7 7 meno meno 1 fa 8 e quindi vedete che queste chi sono? le righe di AB cioè le righe di AB si possono altresì vedere come combinazione lineare delle righe di A allora la prima riga di AB è la combinazione lineare delle righe di A con i coefficienti presi dalla prima riga di A dalla prima riga di con i coefficienti presi scusate la seconda riga di AB è la combinazione lineare delle righe di B con i coefficienti presi dalla seconda riga di A quindi righe righe di A solo che le colonne di AB sono combinazioni lineare delle colonne di A e le righe di AB sono combinazioni lineare delle righe di B qua non vi potete sbagliare perché non vi potete sbagliare? perché se prendete le righe di allora le righe di B sono lunghe B come le righe di AB se prendete le righe di A quelle sono lunghe N ma N in AB non ci sta in generale e quindi non potete sbagliare invece se prendete le colonne dovete prendere le colonne di A perché sono lunghe M come le colonne di AB quindi le colonne di AB possono essere solo combinazioni lineare delle colonne di A e le righe di AB possono essere combinazioni lineare solo delle righe di B i coefficienti a dove dovete prendere dalla colonna corrispondente o dalla riga corrispondente secondo si sta a fare la dimensione delle righe 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 o colonne colonne chiare non è difficile benissimo facciamo un altro esercizio vediamo un po' se riuscite ad applicare subito questi fatti che abbiamo visto facciamo un altro esempio questo è A e questo è B chi è A per B? 5 5 5 6 è la stessa abbiamo tolto una colonna quindi qua ho tolto la colonna corrispondente stavolta però posso fare anche B per A chi è B per A? io dico che viene 10 meno 1 5 poi 4 meno 1 1 e poi 2 1 qua motivo devo fare un prodotto al contrario quindi 2 più 8 fa 10 poi 2 più 8 fa 10 1 meno 2 fa meno 1 3 più 2 fa 5 e ho fatto la prima riga poi 0 1 quando vado a fare il prodotto 0 si sconda corrigamente la prima riga di A 1 si sconda corrigamente la seconda riga e quindi viene 4 meno 1 1 quando farò 1 0 per questa B verrà 2 1 invertite la posizione delle matrici vatelo io sono riuscito a farlo con un po' di abitudini anche senza spostare le matrici B per A fa quella roba torna torna perché questa è una matrice 2 per 2 questa è la 2 per 3 questa è la matrice 3 per 2 allora vedete perché posso fare tutti i due prodotti perché n ed n sono uguali cioè il numero di colonne di A è uguale al numero righe di B ma anche il numero di colonne di B è uguale al numero di colonne di A una è M per N l'altra è N per N quindi sia che le metto così che le metto soltanto che vedete che B per A non è 2 per 2 ma è 3 per 3 perché stavolta quando faccio 3 per 2 per 2 per 3 è il 2 che si cancella non il 3 quindi rimane una matrice 3 per 3 o vediamo se qualcuno riesce a intuire che ci sta un problema ci sta un problema una cosa che si può osservare sulle righe e sulle colonne della matrice B per A sulla matrice AB non si può dire un gran che ma sulle righe e le colonne della matrice B per A si può dire qualcosa cosa si può dire senza fare nessun punto io dico che le righe sia le righe sia le colonne di B per A sono linearmente dipende perché allora se vi ricordate andiamo a riscrivere quello che abbiamo fatto prima allora chi è? prendiamo le colonne 10 4 2 chi è? 10 4 2 è la colonna la prima colonna di B per A che è una combinazione lineare delle colonne di B con i coefficienti presi dalla prima colonna di A quindi questo qua deve essere 2 volte 1 0 1 più 2 1 0 infatti vedete 2 più 8 fa 10 0 più 4 fa 4 2 più 0 ma poi la seconda cioè meno 1 meno 1 1 chi deve essere? la stessa cosa solo che i coefficienti li dobbiamo prendere dalla seconda quindi dobbiamo fare 1 0 1 meno 2 1 0 guarda la differenza che è meno 1 meno 1 1 e la terza la terza 5 1 3 la stessa cosa solo che i coefficienti li dobbiamo prendere dalla terza colonna di A cioè devo fare 3 volte 1 0 1 l'altro coefficiente era 1 più 2 3 più 2 fa 5 0 più 1 fa 1 3 più 0 fa 3 ci siete fino a qui? è la stessa cosa di prima le colonne di A B sono una combinazione lineale delle colonne di B qual è il problema? quante sono le colonne di B? 2 possono generare sopproporzionali? no però che spazio genera? uno spazio di dimensione 2 come colonne in 20k qual è il problema? le colonne di B B quante sono? sono 3 ma stanno in uno spazio di dimensione in uno spazio di dimensione 2 perché stanno nello spenn questo appartiene allo spenn di questa e di questa questa appartiene allo spenn di questa e di questa questa appartiene allo spenn di questa e di questa siccome lo spazio di dimensione 2 e le colonne a dimensione 2 quindi e le colonne sono 3 tre vettori uno spazio di dimensione 2 sono necessariamente linearmente dipendenti allora cosa posso dire per esempio se voglio avere se faccio vediamo un po' i coefficienti di combinazione non sono banali da trovare però cosa devo fare devo fare 2a più b uguale 3 e 4a meno b uguale a 1 se voglio trovare la terza come combinazione lineare delle prime due allora quindi viene 6a uguale a 4 quindi a uguale a 2 terzi quindi 4 terzi b uguale a 5 terzi andiamo allora vediamo un po' bene allora io dico che se faccio 2 volte 10 4 2 più 5 volte meno 1 meno 1 meno 3 volte 5 1 3 quanto viene 20 meno 5 meno 15 fa 0 8 meno 5 meno 3 fa 0 4 più 5 meno 9 fa 0 allora vedete che questa è una combinazione lineare delle tre colonne di B che ha i coefficienti non nulli basterebbe non tutti nulli perché questa qua non ce ne ha manco uno ok che significa che queste colonne di B sono linearmente di A B scusate sono linearmente dipendenti e le righe le righe di scusate le righe di B le righe di B sono dipendenti o no? le righe di B chi sono? una combinazione lineare delle righe di A ma le righe di A sono? le righe di B sono 3 stiamo esattamente nella stessa condizione quindi anche le righe sono per forza dipendenti qua è più facile perché se voi fate il doppio di questa più questa 8 più 2 fa 10 meno 2 più 1 fa meno 1 2 più 3 quindi la prima non è altro che il doppio della seconda più la terza oppure se fate il doppio della seconda più la terza meno la prima viene la riga ok? ok? o vedremo che questo cioè se prendete una matrice 3 per 2 la moltiplicate da una matrice 2 per 3 e ottenete una matrice 3 per 3 come in questo caso qua vi fate il contrario 2 per 3 per 2 e fa 2 per 2 va bene queste righe non sono dipendenti sono 2 queste righe invece devono essere per forza dipendenti sono 3 sia come righe sia come 4 ok? quando faccio il prodotto al incontrare cioè genera una matrice che ha più righe di A o più colonne di B per forza devono essere dipendenti in questo caso la matrice quadrata avrà sia le righe dipendenti sia le colonne dipendenti quindi la metterà da parte